Nel Rococo del Palazzo Malacrida c'è una qualità e un gusto quasi geniale dovuto alla nostra scoperta del Giorgio Coduri, del pittore delle decorazioni che sono di una qualità incomparabile. Uno scrigno d'arte meraviglioso, il settecentesco Palazzo Malacrida conosciuto nel mondo culturale come il Palazzo Veneziano della Valtellina grazie al suo valore e alla sua bellezza ha attirato l'attenzione dell'artista zurichese Balz Becchi che ha deciso di investire per riportarlo all'antico splendore. Numerose le sale restaurate con uno stanziamento di 700 mila euro dal salone principale fino alla sala Stucchi e alla sala delle Tre Grazie salone privato della famiglia dove le telecamere entrano per la prima volta. Nella sala Stucchi abbiamo fatto un descialbo al soffitto per riportare queste stucature fini istoriati, cioè sono stucature che raccontano delle storie che negli angoli troviamo quattro raffigurazioni del Vecchio Testamento più due virtù sui lati opposti. Nella sala Tre Grazie come nelle due salette adiacenti avevamo un grosso problema di infiltrazioni. alla fine è stato lavato come tutto il resto e con il ritocco siamo anche riusciti a ripristinare quella zona che era piena di sali che abbastanza si sposa ancora con il resto che era intero. Lavoro in corso nella camera da letto con un investimento di 80 mila euro. Siamo ora nella stanza da letto che stiamo pulendo anche lì pareti, soffitto, il pavimento qui è in un seminato veneziano che non verrà tolto. Penultimo intervento della Fondazione Becchi al via il prossimo anno con un investimento di 60 mila euro il restauro della sala della toaletta. È una sala che rappresenta una firma probabilmente di legame particolare fra l'architetto allora Pietro Solari e il quadraturista che era Giuseppe Coduri. È una sala tutta frescata, tanto piccola quanto bellissima.